Le vorrei offrire una pizza Sei fantastico Miam 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 Parte E diventa tonda Perfetto Arriva qua Sugo Vi ha aggiunto sugo Ecco il formaggio Vediamolo Oh mio dio Sembra buonissima Che carina Oh mio dio Guardami la faccia Ora sei più carina Ehi ragazzi Come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E che sei giocato Che è Marroblo E oggi per la felicità di Steph Andremo a giocare Il Pizza Factory Tycoon No vale valore Di questo giorno Guarda lo stavo aspettando da mesi Finalmente c'è un bellissimo Tycoon con la pizza Cioè cosa volevo di più? Nulla Iniziamo subito Devo mangiare Sapevo che ti sarebbe piaciuto Anche questo ci è stato consigliato tantissimo E secondo me sarà il Tycoon Perfetto per te Secondo me sarà bellissimo Te lo dico subito Allora Vediamo Pizza? 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 Escono pizze? Escono pizze Non lo so Per ora no Però magari Ecco È la pasta Questa è la pasta della pizza La pasta della pizza Ok quindi Probabilmente dobbiamo aggiungere i dropper Che aggiungono sugo Mozzarella E così via Esatto E avremo delle pizze complete Buonissime da mangiare Perché è solo la pasta È buona Ma non mi piace molto Ma perché in effetti è la pasta Capito? Che è racquadrata Esatto E l'impasto appena lo fai Invece questo gli dà la forma tonda della pizza Mio Dio È fantastico È già bellissimo Sei pronta? Sì 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 Questo dovrebbe aggiungere il sugo Il sugo? Vediamo Allora Tonda Tonda Sugo Oddio Che carina No vabbè Ho già fame Mi piace il fatto che La produzione piuttosto che essere dei blocchi Come capita sempre Oppure è solo una cosa che va nella pedana È proprio una produzione di pizza vera e propria Ho una domanda da farti Allora tu mi stai facendo giocare Un take you Dove vedrò tantissime pizze Ok Ok a pranzo dobbiamo mangiare pizza? No E allora non va bene Allora se vuoi la pizza Chiama e ordina Cosa ti devo dire Cosa ti devo dire Ti verrà la culina Ma poi non mangiare pizza Mi dispiace Mi dispiace Comunque Possiamo aggiungere Vero venire fame Sto take you Vero? Sì sì Ti giuro ho già fame Siamo entrati ho già fame Sei pronta? Formaggio? Sì Vai Aspetta Facciamo andare via questa Perché voglio proprio vedere Tutti i passaggi Capita appena arriva la pizza Ok Guarda Parte Tonda E diventa tonda Perfetto Arriva qua Sugo Viene aggiunto il sugo Ecco il formaggio Vediamolo Oh Oh mio dio Sembra buonissima Che cos'è questa cosa? La salsiccia È da tutte le parti C'è peperoni e salsiccia No vabbè guardala Oh mio dio Allora valgono entrambi 400 cash Quindi Ma come fa ad andare da una parte o dall'altra? Ah è casuale Ok vedi sì Una va da una parte L'hai vista che è carina anche quella con i peperoni? Sì È troppo carina È troppo carina È bellissimo È davvero davvero bellissimo Che inizio incredibile Andiamo un pochettino a visitare la zona Sì che ancora non l'abbiamo fatto Vediamo se c'è Qua c'è la zona VIP Noi siamo VIP nati No? Soprattutto Capitan Jeff È un gran VIP No soprattutto signor Maialino Famosissimo Che è qua Scusi Scusate Questo è il negozio di signor Maialino? Ah c'è Scusi 98 Robux solo per essere qui dentro mi sta chiedendo Sì lo immaginavo Me ne vado Ma guarda No no viene un attimo Ok Scusi Che succede? Signor Maialino è un VIP nato Non vi dovete permettere di chiedermi Robux Avete capito? Sto cercando il titolare del negozio Per fargli una bella ramanzina Perché queste cose non vanno bene Questi sono i vestiti di Ash Oh mio Dio Puoi diventare Ash Sono fatti benissimo Quanto costa scusami? Non solo sarà il Taekun Ma quando arriviamo a costruire Tutta la zona Verranno addirittura i clienti Che faranno le ordinazioni Sì è vero E morranno determinate pizze È vero è vero è vero Quindi è un Taekun davvero speciale Quindi non solo è Taekun Nel senso che costruisci il posto vero e proprio Ma diventa anche un posto gestionale Quindi sarà anche più divertente Quindi ci mettiamo proprio a fare le pizze Guarda Cos'è? Cos'è questa cosa? Cos'è? 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 Ah Adesso è la cucina Guarda No vabbè No vabbè ragazzi Che carina questa produzione È davvero fatta bene È troppo carina Comunque sono pieno di soldi Quindi posso fare la prossima cosa Più che una produzione È proprio una vera cucina Vero e propria di pizze Quindi bellissimo Desert pizza Ok Ok E nessuno mi ha mai detto nulla Biscuit Che succede? Abbiamo creato l'altra parte Per creare delle pizze dolci Dammi immediatamente una pizza dolce Comunque vedi è perfetto Pensavo che fosse solo il take one per te Invece c'è anche la parte dei dolci per me È fantastica Hanno pensato a tutto E beh anche a me signor maialino Ormai siamo soddisfatti Regalo 3 2 2 1 Spim Oh mio dio Che hai fatto? Ma questa sarà la nostra pizzeria? Spim Che sarà? Questo è percorso? Sì sarà la nostra pizzeria questa Vero? È il ristorante Sì Sì Vabbè pizzeria si chiama Spim Pizzeria Oh mio dio Ma bello questo Costano relativamente poco le prime cose Quindi le ho comprate un po' tutte insieme Bellissimo Oh mio dio C'è anche qualcosa che puoi comprare qua Non leggo però cosa possa essere Gear platform Oh mio dio Prendi questa Costa poco Quanto costa? 50 Prendila Ok Dove è apparsa? Ah qui dietro Qui dietro Qui dietro Non la vedevo Anche io non la vedevo Cosa ci sta proponendo? Puck Giver Magic Carpet Diver Breakfast Gang Giver Block Star Bike Block Star Bike Oh mio dio Pizza Giver Oh mio dio Oh mio dio Mangia Ah buona La pizza Buona la pizza La pizza La stai dicendo mangiare? No La pizza Guardami Guarda la sta mangiando anche Capita Jeff Perché non ci riesco? Perché? È buonissima Signor Maialino Grazie mi sto offrendo la pizza Signor Maialino Aspetta concentriamoci La sta mangiando Sì Vero? Sì sì Chiaramente Sto dicendo che è molto buona Sì 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 Gli è piaciuta Gli è piaciuta Ha detto che sei molto bravo a fare le pizza La prima volta che ti fa un complimento Questa è una cosa epica Posso farti vedere una cosa? Te lo dovrei segnare nel calendario Perché non accadrà mai più Per i prossimi tre anni Ma io non gli voglio i complimenti Signor Maialino Solo a te interessano Allora Allora Sì Ricevere i complimenti Da signor Maialino È un onore È inutile È come quando ho capito Parli col sindaco Della tua città No Che cosa È totalmente inutile Maialino È un'autorità Quindi lo devi rispettare Ho una sorpresa per te Ok Io avevo letto Un commento Che ci consigliava Questa mappa Che diceva Che c'era un oggetto speciale Che avevamo visto In Lucky Block Che ci aveva divertito tantissimo Il cane? No Ma come? Non mi date un cane? Come? Sei pronta? Sì Ti ricorda qualcosa? Ovvio No no Sei pronta? Ma perché non posso prendere Gli oggetti? Perché? Girati 3, 2, 1 Guarda la faccia Io Allora Sì Secondo me Questo è l'oggetto migliore Che ci possa essere Su Roblox Che succede? Perché? Sono riuscita a tirarsi Finalmente il tavolo in faccia No Arriviamo Quanto sei volata lontano? Tanto Sono arrivata Quella palma lì giù Eh vedi È molto Sì Sì Sei dall'altra parte della mappa Qua sono curioso di provare Almeno la cucina La cucina Sì Perché costa mille Guarda c'è anche il menù E dice non hai ancora nulla Però sicuramente potremmo decidere anche il menù Dimmi che così perché sarebbe epico Fantastico Cos'è questa cosa? Non lo so Che cos'è? Dispenser Cup dispenser To epicustomers Non lo so Non lo so che cos'è Boh Magari funziona man mano che vai avanti con la cucina Non lo so Potrebbe essere Allora sto guardando tutte le cose che ci sono Costano un pochettino Perché ho già guardato i prezzi E ero curiosissimo Li ho guardati senza di te Posso giusto estenderti le mura Guarda Oh mio dio Ma c'è il secondo piano Oh mio dio 6.000 Ce li abbiamo 6.000 per il secondo piano Lo vuoi? Sì Va bene Te li concedo Spam Wow Il tetto Le finestre Ci sarà qualcosa qui sopra È arrivato un cliente Dice Dice che appunto non c'è nulla nel mio menù E come lo creo Ah ho capito cosa sono questi 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 bottoni gialli Ho capito Dimmi Cos'era quest'urla? Sono bottoni che puoi premere quando fai felice e abbastanza clienti Esatto Qui sopra c'è uno che dice Sedie e tavoli 25 E clienti felici Quindi Dovremmo rendere felici Scusi Vuole una pizza? Sì grazie Stai dall'altra Tieni Grazie Oh mio dio Già Dimmi che la posso prendere Datemi la pizza Allora Mi ci metto sopra la mano Allora lui lo vuole Lui lo vuole Tenga signore Tenga signore una bellissima pizza Come faccio? Oddio Oddio Come gliela possiamo dare? Come? Scusi Ok Ah grazie È felice Un cliente è felice Dai 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 Ci siamo Sta andando bene Bellissimo E per ora sono questa Questo sette clienti felici Invece questo Questo era solo due Esatto e potremmo provare a farlo Perché ne manca solo un altro Aspettiamo un secondo Dai 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 Abbiamo una lista Che ci dice Quanti clienti felici Stiamo facendo Secondo te Sì 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 A fianco al tuo nome Guarda ne abbiamo uno In questo momento Ok Tenga signorina Tenga Ok Possiamo prendere questo Scusami Scusami Allora Dimmi Quel cliente andava picchiato Perché? Perché aveva i capelli uguali miei Però biondi Aspetta E queste cose non devono esistere Aspetta Cioè Scometti che adesso ti calmi Guarda cosa ti offro Oh mio Dio grazie Che cos'è? Un dolce? Stai lì sopra No non li posso prendere Uffa Non posso interagire Col tuo Col tuo Col tuo Tycoon Mi dispiace però Penso che insultero i clienti Se si azzardano di nuovo Ad avere i capelli uguali Salve Salve Cosa vuole? Vieni i capelli bellissimi invece Ok pizza Stai sono fichissimi sti capelli Facciamo così Venga Siccome non posso dare delle pizze Io elogio i clienti Quindi li faccio venire qua Che succede? Non ce la fai? Ok Sì È un po' vagato Esatto Hai capito benissimo Dicevo elogero i clienti Li faccio sentire a casa Così è più probabile Che saranno sempre felici No? Non ti piace come cosa? Che succede? Aspetta No Oh mio Dio Lo voglio Perché? Perché non posso prendere nulla Ma non è giusto Scusi Vedi c'è di nuovo Quella con i capelli uguali miei Vieni a picchiarla Allora Signorina Signorina Deve levarsi questi capelli Mi dispiace Guarda Lasciala in pace Guarda No la sto guardando malissimo Signor Maelina La sta fulminando Così non tornerà mai più Capito? Guardi Ignori Non va bene Non va bene Questa sbadata Se ne vada con la sua bella pizza No se prova a tornare La prossima volta Si ritrova rasata Ma mi è guardato? Che cosa? Oh mio Dio Ero troppo intenta A minacciare la cliente Scusami Lo sai che mi prende tante energie Sì Lo so Lo so Torniamo un attimo Signor Maelina eravamo concentrati In un obiettivo comune Cos'è che non è bellissimo Scusi Un attimo la pizza Tenga questa bellissima pizza Siamo a sei A sette possiamo prendere una nuova cosa Pronta però Sì Entrata Oh Bella 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 Finestre No 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 Vieni qua Vieni qua Questo secondo me non c'era prima Guarda adesso ci sono i fiori I vasi Oddio Queste sono le lavagnette sicuramente tipo del menù Questa è l'insegna del locale È fantastico Bellissimo È troppo bello È troppo bello È troppo bello Prossime cose Prossime cose Possiamo comprare Non so che dire È troppo bello I tavoli No Aspetta Guarda che carini Oh mio Dio No è fatto davvero bene Guarda Portami una pizza Grazie Una bella pizza Tenga Tenga Grazie 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 Buono questo Buono Buono Io e signor Maelina abbiamo apprezzato Meno male Sei un bravo dirigente di pizzerie Bravo Sei pronta? Possiamo finalmente prendere questo Banana milkshake Che buona E guarda Questa cosa è aggiunta al menù Che buona Vedi? Sì Ma non è che io devo fare Ta E poi metto questo qua Non lo so Ci ho pensato anch'io Può essere? Vediamo Vediamo No Vabbè Lascia perdere Lascia perdere Sì Non ci credo Ce lo preparo proprio Devo andare col capo qua Ok Allora E diventa un banana milkshake Abbiamo commesso un errore incredibile Continuiamo a prendere i bicchieri vuoti Perché quelli erano solo i bicchieri Esatto Da poi riempire con i vari Ok E se lo Guardalo bene Lo vedi? Buono Grazie Buono Le vorrei Sei bellissimo Le vorrei offrire una pizza Sei fantastico Miam 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 Eh già che le fai ne approfitti per mangiartene pure tu Esatto Sei benissimo vestito da chef Lo ametto Grazie Soprattutto sai perché? Ahà Perché vestito così ti ha levato Capitan Jeff Quindi è ancora più fantastico No Eh sì Jeff Guarda Cosa hai preso? Uh quella al cioccolato Buono buono Allora Serviamo questo cliente E poi andiamo dietro a vedere se abbiamo qualcosina da prendere ancora Ok Perché abbiamo praticamente finito tutto Salve cliente Lei cosa vorrebbe? Uh Lei è un buon gustaio Sì Sì Davvero buona questa pizza Sipidi Sì 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 E sono ancora felice che comunque quella con i capillule mi non è tornata Io signor maialino vedi stiamo Mi hai fatto perdere una cliente importante No non era importante perché era solo una copiona ok? No Ok Allora andiamo a vedere cosa c'è qui dietro vediamo Posso prendere tutto Tutto? Perché sono ricco I palloncini Guarda che carini palloncini Aspetta Mi stai tirando cucchiaini Cambia Uh me l'hai dato però No No Allora ce l'ho incastrato nel braccio come vedi Che poi questo è un cucchiaino forchetta Sono quelli tipo per l'insalata capito? Guardami Sì sì Guardami Stai qua sto facendo? Aspetta Sto picchiando signor maialino Aspetta Guarda la mia schiena Non ho parole Bellissimo Mi stai pugnalando alle spalle È questo che mi stai lasciando intendere? Ti stavo cucchiainando alle spalle Cos'è quella? Oh mio dio fai pancake No non sono pancake Sono le goffre Come cavolo si chiamano questi? Oh mio dio Te lo sparo Aspetta Dritta in faccia No ma questi non rimangono Mi dispiace No ma ogni volta è diverso Ho sparato anche un uovo Un uovo? Adesso è una pizza È uno sparacibo Ho sparato Vedi? Vedi? Oh mio dio Guardami la faccia Ora sei più carina Stai meglio lo sai Posso coprire anche il signor maialino? No Peccato È geniale Che poi il bacon ti fa il sorriso triste Sembra che ho gli occhi Le uova che sono i miei occhi storti E invece il bacon il mio sorriso triste Sembra arrabbiatissimo in questo momento Bellissimo Che capolavori guarda Allora provo i palloncini Che sono curioso di vedere che fanno Ma rimarrò per sempre così secondo te Ah volano Ciao palloncini Guarda È tornata con i capelli rosa Cioè se li è tinti per farmi ancora di più un dispetto È andata dalla parrucchiera Ecco perché non stava più tornando Perché è andata dalla parrucchiera E se fate i capelli rosa come i miei Sì Sono alibica Ti sta affrontando Allora Allora Come reagisci a questo affronto Io l'ammazzo Adesso sai che cosa fai Sì Ha chiesto un milkshake alla fragola Ok Tu gliene dai uno al cioccolato Ok In realtà ha chiesto quello al cioccolato Perché è rosso Eh lo so E allora tagline uno alla banana Ok Ok Io ci provo Glielo fai apposta No io non ho parole Ecco perché non stava tornando Mi è sembrato strano che non tornassi più Tenga Tenga No guarda Io sono allibita Vedi quella La fragola è rosa Esatto Ti dico la verità Sono allibita Queste cose sono inammissibili Ha fatto bene però Se ne deve andare Perché lei è un'incredibile sbruffona E ha fatto un affronto a me A signor Maialino Che non ci dimenticheremo mai Cosa c'entra signor Maialino adesso Per i prossimi vent'anni Perché il signor Maialino È sempre dalla mia parte Quindi fa sempre Quello che io dico Ok Ok Va bene Se lo dici tu Ti sei azzardato a servirla Sì Ti sei azzardato Sì Scusami Abbiamo litigato No Me ne vado No Me ne vado Me ne vado Torna qua No sto andando via Vieni Sto andando a costruirmi il mio Tecunico Non farò entrare nessuno Con i capelli uguali miei Me ne vado Vieni qui No vado in questo Che è più bello del tuo Nulla è più bello del mio Scusami Me ne vado via Guarda Scommetti che al piano di sopra Lui non ha i tavolini E infatti Non mi interessa È pur sempre più bello del tuo No è più bello il mio Ma ne sto qua E non tornerò mai più Torna dai Mi hai offeso Guarda Profondamente Guarda che cosa ho per te Che cos'è Un banana milkshake Ti ho detto che non mi piace la banana E avevo solo questo Cioè mi dà gli scarti dei clienti Una peperoni pizza No Un milkshake Peperoni No Vado a prendermelo da sola Quello alla fragola Così mi autoconsolo Va bene Ci siamo Ultimo cliente Per arrivare a 32 Dai Ce l'abbiamo fatta Andiamo sopra Io spero che sia finito però Sì anch'io Perché rimanere a servire per sempre clienti Diciamo Che non è l'obiettivo della mia vita Vediamo Oh che bellini Oh mio dio Ci sono tutte le pizze Ma carinissimo Comunque si abbiamo finito Sì Vedi Non c'è altro Finito Ce l'abbiamo fatta Siamo di fronte A un tagging fantastico Cioè Abbiamo creato pizze Li abbiamo servite ai clienti Abbiamo un locale troppo carino Dei vestiti epici Bellissimo Anch'io non me lo aspettavo così Sono davvero 10 e lode Felicissima di averlo giocato Soprattutto perché ho potuto insultare i clienti Quindi meglio di così E adesso andiamo a ordinarci una pizza Andiamo assolutamente Spero che se vi riusci così Se ci lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.